Oh, sempre più aziende scelgono di far gestire la propria comunicazione social da aziende esterne e ti spiego perché. Da un punto di vista dei costi, prendere un tuo dipendente e metterlo a gestire i social significa investire un intero stipendio e relative tasse aggiunte per bloccare una persona che non fa questo di mestiere togliendola dalle sue abituali mansioni. Ingaggiare un'agenzia esterna ti dà la possibilità, allo stesso costo che hai per un dipendente, ma anche meno di avere qualcuno che ti performa da domani mattina, che conosce il lavoro e le strategie per raggiungere i tuoi obiettivi. Calcola che un'agenzia esterna non aspetta lo stipendio a fine mese, ma si deve guadagnare la tua fiducia ogni mese per poterti poi staccare una fattura. La morale è che ognuno dovrebbe fare il suo lavoro e se ognuno fa il proprio lavoro seguendo le proprie competenze è sempre meglio per tutti. Te lo dice un'agenzia esterna. Grazie a tutti.